salve e bentornati a incipit oggi parliamo di un romanzo di uno dei principi della fantascienza mondiale anzi della science fiction perché fantascienza è riduttivo spesso per fantascienza si intendono le astronavi che solcano lo spazio eccetera eccetera ma molto più spesso si tratta di fantasciologia fantapolitica eccetera eccetera un esempio di di fantasciologia è questo questo bel romanzo di robert heinlein ripeto uno dei principi della della scrittura della science fiction che si chiama i figli di matusalemme e praticamente viene immaginato nel 2125 che circa centomila ultra centenari che sono frutto di un di un esperimento genetico che fino a quel momento sono rimasti nascosti gente che ha ben oltre i cent'anni ed è ancora giovanile nel nell'aspetto finalmente si rivelano al mondo e ma tutte le persone che non che sanno di non poter raggiungere quell'età non sono così contente di questa rivelazione e questi ultra centenari figli di matusalemme cominceranno a essere perseguitati ma non vi dico altro leggiamo l'incipit Mary Sperling si è davvero sciocca a non sposarlo prima di rispondere Mary Sperling sommò le perdite e compilò un assegno c'è troppa differenza d'età passò all'amica il voucher di credito non dovrei giocare da giardo con te a volte penso che tu sia una sensitiva sciocchezze cerchi soltanto di cambiare argomento devi avere quasi 30 anni e non resterai bella in eterno Mary sorrise stentatamente come se non lo sapessi Bork Vanning non può aver superato di molto la quarantina e ha una posizione di rilievo dovresti cogliere la palla al balzo cogliela tu devo scappare adesso al tuo servizio Van al tuo rispose Van poi corrugò la fronte fissando la porta che si contraeva alle spalle di Mary Sperling ardeva dal desiderio di sapere come mai l'amica non volesse sposare un uomo importante come l'onorevole Bork Vanning ma l'abitudine alla riservatezza l'aveva trattenuta ancora una volta Mary non aveva intenzione di rivelare a nessuno la sua destinazione appena uscita dall'appartamento dell'amica scese nel seminterrato usando il tubo pneumatico ritirò l'automobile a Robopark la guidò su per la rampa e dispose i comandi per North Shore la macchina attese uno spiraglio nel traffico poi si tuffò nel flusso che scorreva ad alta velocità verso nord Mary si adagiò contro lo schienale del sedile appisolandosi quando le indicazioni date al pilota automatico stavano per esaurirsi il cicalino ronzò chiedendo istruzioni Mary si riscosse dal dormiveglia e guardò all'esterno nel buio il lago Michigan era una striscia più scura alla sua sinistra segnalò al controllo traffico che la lasciassero entrare nella corsia a circolazione locale il controllo spostò l'auto nella direzione voluta e Mary riprese la guida manuale poi frugò nel cruscotto il numero di targa che venne fotografato in automatico mentre si allontanava dagli accessi controllati non era lo stesso di prima Mary seguì per alcuni chilometri una strada laterale incustodita quindi svoltò in un viottolo stretto che conduceva alla riva e lì si fermò ad aspettare a luci spente in ascolto a sud il chiarore di Chicago illuminata brillava lontano a qualche centinaio di metri gli accessi controllati ronzavano ma sulla spiaggia si sentivano solo le voci timorose e sottili delle creature notturne Mary tastò il cruscotto e girò un interruttore il pannello degli strumenti si illuminò scoprendo altri quadranti nascosti li studiò apportandovi alcune modifiche assicuratasi che nessun radar la osservasse e che nelle vicinanze non ci fossero oggetti in movimento spense l'apparecchio sigillò il finestrino al suo fianco e riaccese il motore questi ultracentenari figli di matusalemme appunto saranno nella storia i diversi come al solito si parla sempre della difficile accettazione della diversità la loro colpa essere figli di un esperimento genetico la loro colpa è di vivere molto più dei normali 80 90 anni degli esseri umani ma vi consiglio veramente di leggerlo a presto ciao sono stefano mondini e questo è il mio canale youtube se clicchi sul bottone che c'è qui sulla schermata potrai iscriverti al mio canale quindi potrai seguirmi ricevere notifiche su quello che pubblicherò e in più se ti va potrai darmi suggerimenti potrai commentare tutti i miei video ci conto